Riccardo Vaniero, l'incrocio dei pali preso con il Lecce è forse l'emblema di questa stagione, del vorrei ma non riesco, delle incompiute, delle possibilità sprecate o della fortuna che spesso gira le spalle a Cosenza? Sì, è vero, è un po' l'emblema. Giochiamo bene, è tutto bello, però pochi punti portiamo a casa, quindi dobbiamo cambiare un po' la rotta e dobbiamo metterci più cattiveria, più voglia di portare a casa punti. Da un punto di vista personale non potevi iniziare meglio, visto che dopo un'annata così così l'anno scorso, quest'anno hai già messo tre reti nella tua classifica. Sì, sono contento della via di stagione, posso e devo fare ancora meglio per il bene della squadra e per far sì che arrivino più punti possibili. Come dicevamo, è un Cosenza che ha raccolto poco davvero, però l'alto della tua esperienza è un Cosenza che gioca bene e che alla fine poi merita di raccogliere di più? Sì, sicuramente stiamo disputando un buon calcio a mio avviso, abbiamo fatto grandissime partite sia con squadre di alta classifica che con altre squadre, però appunto i punti sono pochi e dobbiamo metterci qualcosa in più, soprattutto nei minuti finali perché è lì che pecchiamo un po'. Ci è capitato in carriera di vivere una situazione del genere in cui al di là dei meriti non si riusciva poi a ottenere il risultato? No, che io ricordo no, non ricordo di aver passato una stagione così, però sono sicuro che con l'aiuto del Minister e di tutto lo staff ne usciremo alla grande. A proposito del gruppo, è un gruppo in cui ti trovi sicuramente bene, si vede dall'aria che si respira, nonostante la classifica non c'è quella pesantezza, anzi c'è una spensieratezza quando si è fuori dal campo? No, sì, sì, è vero, il gruppo è un ottimo gruppo, l'anno scorso l'ha dimostrato perché vincere un campionato così con i play-off ci deve essere per forza un gran gruppo. Quest'anno siamo arrivati in molti nuovi, però comunque il gruppo che c'era l'anno scorso è rimasto coeso e ci ha aiutato a farci inserire a tutti quanti. Siamo bene qui, però dobbiamo fare di più. Dal napoletano hai altri compagni napoletani, c'è in particolare Gennaro Tutino che è forse il napoletano per Antonio Masi, è uno scugnizzo vero e proprio. Sì, già lo conoscevo a Gennaro, abbiamo giocato insieme a Bari, è un bravissimo ragazzo ed è fortissimo, deve crescere ancora per diventare un grandissimo giocatore. La prossima gara con il Crotone è un derby, c'è amicizia fra le tifoserie, sarà uno spettacolo, 2000 tifosi. Riccardo Maniero guardando un po' lo score nelle piazze con più tifosi ha fatto sempre meglio. Sì, è vero, ci sarà sicuramente una festa perché le tifoserie sono amiche, come hai detto, ci sarà lo stadio pieno ma noi dobbiamo far punti a tutti i costi e sperare di portare a casa una vittoria. La squadra che viene dalla Serie A con molti elementi che hanno giocato l'anno scorso nella massima serie sta affrontando un periodo delicato, c'è stato già il cambio d'allenatore, quindi sarà una gara quasi da Morstu a Vitamea. Sì, è vero, loro hanno cambiato l'allenatore, non stanno passando un ottimo periodo, però sappiamo che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, mentre noi siamo una squadra attrezzata per lottare per la salvezza. Comunque ce la giocheremo e venderemo cara alla pelle sicuramente. Di padre in figlio, un giudizio su questa piazza che ha visto prima tuo padre giocare e adesso ti è acclamato anche la tifoseria. Sì, è emozionante giocare qui, sapendo che qui mio padre ha giocato tanti anni e per me è un motivo di grande orgoglio indossare questa maglia.